Tutto questo disprezzo ti distruggerà, fratello mio. Giuliano, che il buon Dio ti protegga. Tuo fratello avrà bisogno di... Ma cosa vorrà questa volta? Ho bisogno d'aria. Lorenzo, come puoi chiedere? Non puoi essere il migliore del Dio, eh? Ho bisogno di te. Sei ossessionato dalla pace, ma non vedi che il nemico si prepara alla guerra? Non voglio versare. Chi ti ha fatto questo? Pazzo. Giuliano, io non credo nella pace. Non credo nella risurrezione. Vorrei essere morto. Offri Imola al tuo nuovo fratello. È lui quello che avevi scelto. Dovranno morire contemporaneamente. E se uno di loro sopravvive, sopravviverà la città contro di noi. Ma vendica l'altra. Deve prendermi delle cose che soffrono. Unica speranza che ho. Questi, questi uomini, sono degli assassini. Giuliano! 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 Hanno tramato per uccidere me e mio fratello nel Duomo. In un giorno di festa. Nel bel mezzo della messa. Sono crimini commessi contro la mia famiglia. Sono crimini contro Dio. Mio fratello... Ma non sei il mio solo fratello. E mi fido di te. Mio fratello è morto. Nulla, ma non è. È l'unico modo per sopravvivere. Il mondo reale, il mondo del peccato. Potete confessare i vostri peccati. Quindi non avremo un processo. Giuliano ha avuto. Essere un peccatore più sfiorato del tuo nemico. Io voglio che il nome dei pazzi sia cancellato per sempre dalla storia. Giuliano! Indicatelo a due dove tutti li possano dire. Lorenzo, non farei niente di cui poi potresti convirti. Il peccatelo ci ho provato. Ho provato a fare bacia con te. Finisci qui. Ho provato a fare bacia con te. Grazie.